Un Mistius, benvenuto! Che cosa ti porta al nostro accampamento? Sei Calibo? Tua moglie mi ha chiesto di consegnarti questo cesto. Credo sia una specie di offerta. Zeuso è una brava donna. Mi ha donato un cesto degno di Dioniso. Piacere i terreni. Sembrava che fosse una questione di vita o di morte. Questione di sbronza, forse. Ragazzi, sarà una grande nottata. Ti unisce a noi, Mistius? Sei sicuro di volere che i tuoi soldati vadano in battaglia da sbronzi? Ah, devo averti giudicato male. Non vieni da Sparta anche tu? Combattere è la nostra specialità, ma bere ci riesce anche meglio. Capisco che intendi. Chi dice di no al vino è una buona compagnia? Non mi aspettavo altro da te. Qualcuno può passarmi, Lothre? Qualcuno mi passa la testa? Credo di averla lasciata giù sulla spiaggia. Devono essere di sicuro gli effetti collaterali dei funghi. Ricordo il pollaio. Ricordo il campo della fattoria. Ma non ricordo di aver costruito un cavallo di troia. Era qui quando mi sono svegliato. Offriamolo agli dèi affinché ci concedano venti favorevoli. Ragazzi, portiamolo giù sulla spiaggia. Ah, non mi tiro di quel cavallo. Penso di me che mi prendo. Per Zeus non riesco a credere che ci faccio. Per Zeus non riesco a credere che ci faccio. Cos'è questo? Cosa vorresti dimostrare? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.